Buongiorno Friuli e bentrovati a questo nostro primo appuntamento in diretta della giornata di oggi, la consueta rassegna stampa che tra poco ci porterà a leggere assieme i titoli principali dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Prima però la consueta parentesi dedicata a meteo e viabilità e allora subito un'immagine che ci arriva quest'oggi dal Monte Lussari dove vediamo che sta nevicando e c'è anche molto vento, questa l'immagine che ci arriva dalla webcam di Promotour che si trova proprio appunto sul Monte Lussari dove in questo momento ci sono meno 8 gradi e 8 decimi, meno 7 gradi e 9 sullo Zoncolan, meno 1 grado e 8 a Tarvisio, meno 4 sul Piancavallo. Si sale sopra lo zero invece in Pianura, 6 gradi e mezzo a Udine e Pordenone, 5 gradi e 8 decimi a Gorizia, sulla costa 4 gradi e 9 decimi a Trieste. La giornata di oggi sarà caratterizzata da cielo coperto con precipitazioni deboli o moderate, quota neve in genere è oltre i 200 metri ma temporaneamente possibile anche a livello del mare. Vento di bora sostenuto su tutta la regione, molto forte a Trieste con raffiche intorno ai 130 km orari al mattino, sul Carso sarà possibile la formazione di ghiaccio al suolo. Le temperature avremo minime di 1-3 gradi oggi, massime che andranno dai 3 ai 6 gradi. E andiamo adesso a vedere anche qual è la situazione e traffico sulle principali arterie autostradali della nostra regione. Ecco la cartina che troviamo sul sito infotraffico di Autovie Venete, ci segnala i cantieri per la realizzazione della terza corsia, in particolare nel nodo di Palmanova. Queste le principali indicazioni per quanto riguarda la viabilità sull'A4 vediamo ovviamente il vento forte che soffia tra Palmanova e Sistiana, quindi attenzione anche a questo. Chiusa la parentesi meteo e viabilità possiamo iniziare la nostra rassegna stampa, andiamo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali e cominciamo da qui la nostra lettura dei quotidiani, dalla prima pagina del Corriere della Sera. Ecco in apertura violenza politica in vista del voto, ora giù i toni, appello del Viminale, centri sociali due fermi. La violenza irrompe nella campagna elettorale, a Palermo fermati due antagonisti, irruzione di forza nuova alla 7, accoltellamento a Perugia, preoccupazione al Viminale per la marcia antirazzista dell'Ampi a Roma e il corteo di Forza Nuova a Palermo. Poi rivedremo questa notizia ripresa anche dagli altri quotidiani, ma adesso la fotonotizia che ci riporta a ieri mattina la medaglia d'oro vinta nella discesa da Sofia Goggia, prima italiana a vincere la discesa il mondo di Sofia è d'oro, scrive il Corriere della Sera. Arriva ancora dalle donne l'oro all'Olimpiade Invernale. Sofia Goggia trionfa nella discesa libera per l'Italia, nella specialità c'è solo il precedente di Zeno Colò nel 1952 ai giochi di Oslo. Solo terza la fuoriclasse americana, Lindsay Pohn. Chiudiamo il Corriere e andiamo a vedere adesso la prima di Repubblica, anche qui abbiamo le stesse due notizie in primo piano, vediamo l'apertura violenze sul voto, allarme piazze e Minniti che dice nessuna impunità, due fermi a Palermo dove è stato aggredito il segretario di Forza Nuova, servizi da Renzi e Salvini stop al governo, no alla proroga dei vertici. Cosa sta succedendo? Scrive Ezio Mauro sulla Repubblica. Nel momento del massimo disincanto dalla cosa pubblica e dalla vita dei partiti, la campagna elettorale improvvisamente è attraversata da atti di teppismo politico in serie, come non succedeva da tempo. Prima il segretario di Forza Nuova, legato mani e piedi a Palermo come nei peggiori anni della nostra vita, è pestato a sangue, poi la stessa Forza Nuova che tenta l'assalto all'informazione attaccando gli studi romani del talk di martedì. Quindi il militante di potere al popolo ha coltellato a Perugia mentre incolla i manifesti elettorali al muro. E infine la profanazione della lapide di Via Fani a pochi giorni dal quarantesimo anniversario del massacro di cinque uomini di scorta e dell'uccisione di Aldo Moro con la scritta morte alle guardie. E poi ancora la svastica che ritorna come oltraggio supremo alla democrazia. Parliamo di teppismo politico perché abbiamo conosciuto ben altra stagione di sangue negli anni settanta ma tutti i segni dicono che la violenza torna in politica sotto forme isolate e disomogenee. Questo il commento di Ezio Mauro. Andiamo a vedere anche qui la foto di Sofia Goggia mai così libera nell'Olimpiade delle donne. Anche qui una bella immagine della sciatrice con il tricolore. Chiudiamo Repubblica vediamo anche il titolo di apertura del manifesto che ci riporta appunto alla notizia che abbiamo visto in primo piano anche su Corriere e Repubblica. I giorni dell'odio scrive il manifesto. Ecco ancora la prima pagina. Andiamo anche sul giornale che invece apre con una notizia diversa. Non fate inciuci dice il leader del Partito Popolare Europeo Weber incontra il Cavaliere e dice la voce dell'Italia. In Europa Berlusconi se il PD perde e governa è un golpe. E vediamo anche qui la goggia tutta d'oro le donne samurai senza eh quote rosa. Vediamo anche la prima pagina del eh di Libero. Una notizia diversa in apertura. Vuoi il diploma di maestro? Paghi soltanto tremila euro. Fare l'insegnante fasullo costa poco. Un numero impressionante di imbroglioni ottiene il certificato taroccato indispensabile per partecipare al concorso e conquista eh la cattedra. Succede tutto in Calabria. Forse anche altrove dice Libero siamo alla follia e chi interviene? Chiudiamo anche Libero e andiamo a vedere adesso la prima pagina del fatto quotidiano che oggi titola in apertura. I partiti hanno liste sporche le mani delle mafie sul eh voto. La eh presidente della commissione antimafia Rosi Bindi presenta la eh relazione sulle eh liste elettorali. L'ultimo atto della commissione bilaterale avverte del rischio impresentabili e propone al Parlamento che verrà di cambiare la legge Severino per non consentire loro l'accesso a Camera e eh Senato. Ecco il titolo di apertura del eh fatto eh quotidiano. Chiudiamo anche questo giornale e vediamo la prima pagina della verità, ultimo quotidiano nazionale prima di passare ai locali. Ecco il titolo di apertura. Già cinquecento le imprese fuggite in Slovacchia. Diamo soldi ai paesi dell'Unione Europea per farci rubare le aziende. Calenda si straccia le vesti per il caso Embraco ma sono governi come il suo che regalano all'Europa miliardi da impiegare proprio per creare nuovi posti di lavoro a est e altrettanti licenziamenti in eh Italia. Vediamo poi che anche la verità nel eh taglio basso sui fatti eh di cronaca degli ultimi giorni. Titola Spranghe e lame, clima da anni di piombo in scontri e eh agguati feriti sia neri che rossi ma per il governo la violenza è solo eh fascista. Scrive la verità. Chiudiamo questo quotidiano e andiamo adesso a spostare la nostra attenzione sui eh quotidiani locali. Andiamo a vedere assieme i titoli di apertura di eh Messaggero Veneto, Piccolo e eh gazzettino subito il messaggero Veneto di Udine che apre oggi con questa notizia. Sanzioni per i medici non vaccinati. La regione valuta un intervento. Solo il dieci per cento fa. L'antinfluenzale. E allora andiamo a vedere le l'articolo che troviamo nelle primissime pagine. Sanzioni e ferie imposte per medici non vaccinati. Flop dell'antinfluenzale tra gli operatori sanitari. Solo uno su dieci ha fatto l'iniezione. Pischiutti dice così non va. Discuteremo con i sindacati come applicare i provvedimenti. Paolo Pischiutti è il direttore per la prevenzione e promozione della eh salute dell'azienda sanitaria eh udinese. Ecco il eh titolo. E poi ancora andiamo a vedere qualche numero. Si parla della copertura ehm dei vaccini dell'antinfluenzale. Vediamo il cinquantaquattro per cento over sessantacinque. Il cinquanta per cento oltre il cinquanta per cento per le categorie a rischio il dieci per cento per il personale eh sanitario. E eh di spalla vediamo le parole eh di eh Bassetti l'infettivologo che eh definisce questi dati imbarazzanti. La eh profilassi sia obbligatoria. Bassetti rimarca le ragioni per le quali istituire il vincolo ai professionisti. In gioco c'è la salute delle persone. La politica non speculi su questo eh argomento. Torniamo in prima pagina adesso. Andiamo a vedere assieme le altre notizie a cominciare dalla fotonotizia a centropagina che ci parla dell'arrivo del eh gran freddo la prossima settimana. Ecco come difendersi dal gelo siberiano. Temperature impicchiata in pianti idraulici a rischio. Da domenica i meteorologi dell'Osmerarpa prevedono temperature impicchiata. La colonina di mercurio potrà toccare i dieci gradi sotto lo zero. Gli impianti idraulici sono a rischio rottura avvertono gli esperti. Ecco come evitare guai. E qui poi nelle pagine interne abbiamo l'articolo che eh ci riferisce appunto qualche consiglio utile su come evitare che questo freddo danneggi gli impianti delle nostre case. E a proposito di maltempo andiamo subito sulla prima pagina del piccolo eh di eh Trieste perché vediamo che la Bora ha già iniziato a soffiare molto forte in queste ultime ore. Ecco il piccolo poi torneremo sull'apertura ma adesso concentriamoci sul taglio alto. Bora a centotrenta volano coppi, rami e anche eh scuteristi. Andiamo subito nella pagina di Trieste Cronaca dove troviamo tutti gli articoli e anche tutte le immagini. Eh giurami scooter e coppi madre e figlia in sella a uno scooter spinte da una forte raffica contro un palo sulle rive. All'ex pescheria volano via pezzi di impalcatura bloccata l'attività in eh porto. E qui vediamo ancora alcune foto molto molto significative anche sul eh sul molo audace. Ecco qua alcune immagini di alcuni temerari che si avventurano sul eh molo. Il vice sindaco Roberti però dice evitate di andare sul molo eh audace ed è stata ridotta anche la raccolta dei rifiuti. Evitate di buttare via i rifiuti. questo l'altro consiglio per i triestini. A Cegas riduce il servizio di raccolta per limitare lo eh scorrazzamento dei eh cassonetti. Le folate possono impedire il sollevamento per lo eh svuotamento. E poi eh i tecnici ehm che si occupano della manutenzione delle strade sono al lavoro sul carso nei punti più eh delicati per eh le operazioni di ehm presalatura delle strade in vista anche delle precipitazioni nevose per eh la giornata eh di oggi. E con queste condizioni meteo al silos tornano i bivacchi dei eh profughi scrive il eh piccolo. Chiudiamo anche eh questa pagina poi torneremo sul quotidiano di eh Trieste e adesso ritorniamo sul messaggero Veneto di Udine e andiamo ad analizzare le altre eh notizie. A proposito di migranti. È stato pubblicato il nuovo bando per eh la caserma eh Cavarzerani. Migranti bando da sette milioni, pasti, servizi e eh guardaroba. Si cercano fornitori. Ed è questa la notizia che troviamo in apertura del fascicolo di Udine del messaggero Veneto. Eccola qua. Guardaroba, cibi e servizi, sette milioni, pubblicato il bando per l'ex Cavarzerani ai migranti, anche un kit con eh l'abbigliamento. Un nuovo bando di gara in grado di soddisfare i servizi per trecento venti richiedenti asilo. La prefettura di Udine ha aperto la eh procedura per la fornitura di beni relativi al funzionamento del centro di accoglienza nell'ex caserma Cavarzerani. La ricettività è di trecento venti posti mentre l'appalto a base d'asta ammonta a circa quattro milioni trecentomila euro. Importo che come riporta l'avviso per imprevedibili esigenze legate a variazioni di prezzi o a un incremento dei flussi di ingresso dei migranti potrà potrà subire modifiche fino a un massimo complessivo di quasi sette milioni quattrocentomila euro. Il bando cancella quindi quello precedente quando i posti disponibili erano cinquecentocinquanta e la base d'asta si aggirava sugli undici milioni di euro fino a un massimo di ventidue eh milioni. Queste le eh novità e poi vediamo nel eh taglio alto convenzione di Dublino saranno trasferiti in Austria i richiedenti asilo arrivati da eh Coccau già eh a Gorizia nei giorni scorsi i primi eh migranti cosiddetti eh dublinati che hanno presentato richiesta di asilo in un altro paese sono stati eh trasferiti in eh Austria nel paese appunto in cui hanno presentato la eh richiesta e eh a proposito dell'accoglienza dei migranti c'è un appello del prefetto Zappalorto che dice i comuni ci aiutino a ridurre gli ospiti nell'ex caserma un appello all'accoglienza diffusa alle amministrazioni che non accolgono il capoluogo non può farsi carico da solo dei nuovi arrivi ha detto eh Zappalorto. Ancora velocemente sempre sulla prima pagina del messaggero Veneto di Udine vediamo qualche altra eh notizia eh di cronaca eccola eh qua rubavano le offerte per Petue Detective e per il ladro non c'è scampo è stato trovato il ladro eh delle della cassetta delle offerte nelle chiese di Attimis e di eh racchiuso grazie appunto al fiuto delle eh di alcune donne che si occupavano della pulizia della chiesa e poi vediamo a Grado i sub bonificano il relitto pieno di ordigni inesplosi un'operazione importante nella laguna di Grado su un eh relitto eh bellico nei prossimi giorni eh a Gorizia saranno presentati tutti i risultati di questa eh importante operazione che ha visto impegnati eh gli uomini eh della della marina anche sul sui fondali di Grado bonificato il relitto a largo di Grado trasportava bombe e un cannone il battello della marina austro-ungarica risale alla prima guerra mondiale a bordo armi per il fronte era naufragato nel 1917 a causa di una burrasca lunedì saranno presentati a Gorizia i risultati e anche alcune immagini di questa eh operazione andiamo ancora sulla prima pagina del messaggero Veneto eh di Udine dal mare andiamo in montagna andiamo a eh Tarvisio per parlare dell'hotel Nevada dopo il fallimento l'hotel Nevada di Tarvisio andrà all'asta il valore è di uno virgola quattro eh milioni ancora cambiando decisamente argomento vediamo corruzione a Grussi è stato rinviato a giudizio i legali i regali a un ufficiale della finanza il presidente di Unindustria a eh Pordenone inizierà il tredici novembre davanti al tribunale di Treviso il processo per corruzione a carico del capitano della finanza ora sospeso Giovanni Grassi trevigiano che vede fra gli undici imputanti anche il presidente di Unindustria a Pordenone Michelangelo eh Agrusti e poi c'è un altro articolo che analizza la campagna elettorale sui social i candidati sui social dal paterno all'aggressiva poi ritorneremo anche su questa notizia quando andremo sul piccolo andiamo nel taglio basso adesso si parla del Friuli Future Forum che è stato presentato ieri e che quest'anno parlerà delle economie della bellezza la bellezza può diventare un affare un'edizione itinerante quella del Friuli Future Forum di quest'anno l'evento promosso dalla Camera di Commercio che oltre a Udine toccherà anche le città Unesco a qui lei a Palmanova Cividale e eh forni di sopra per quanto riguarda le eh Dolomiti e a proposito di ehm gioielli di bellezze oggi si torna a parlare del gioiello incustodito della Sistina di San Daniele e non c'è più il signore che apriva le porte eh del eh di questa eh di questa chiesa al pubblico non presta più servizio e c'è l'appello appunto salvate la chiesa incustodita dice Don del Fabbro che rivuole le chiavi del comune dopo il ritiro del vigile volontario ecco qua Sant'Antonio è un capolavoro del 1300 di impianto gotico con un affresco del pellegrino e sullo sfondo San Daniele ed è eh a rischio e vediamo alcune immagini anche dell'interno eh di questa ehm chiesa. Torniamo velocemente sulla prima pagina del messaggero Veneto solo per vedere assieme le notizie che troviamo nel taglio alto lo sport con le Olimpiadi Little Jet e Donna storico oro di Sofia Goggia e oggi e torna in gara anche Lisa ehm la la eh Sappadina eh che eh dice credo in un altro sogno provaci ancora Lisa oggi sarà impegnata in un'altra gara poi vedremo bene assieme nelle pagine interne durante la nostra rassegna stampa sportiva anche gli impegni degli altri atleti regionali oggi alle eh Olimpiadi. Abbiamo letto sulla prima pagina del eh messaggero Veneto la la notizia riguardante la eh campagna elettorale sui social e vediamo che il piccolo oggi apre proprio con eh con questo post e tweet la campagna è eh social esplode la violenza politica condanna bipartisan zero zero sette in eh allerta un titolo che eh ci riporta anche ai fatti eh nazionali ma andiamo subito nelle pagine interne e eh vediamo alcuni articoli post a chiappa like e tweet al vetriolo la sfida finale è eh social a dieci giorni dall'apertura delle urne la caccia ai consensi si sposta sul web tra slogan foto con i big big e guerra degli hashtag ecco il titolo i sorrisi con Matilda in riva al mare di Serracchiani e la grande rincorsa di eh Tondo e poi vediamo ancora eh l'ironia di De Monte che eh prende di mira il concorso Vinci Salvini lanciato online dal segretario del Carroccio Patuanelli che punta sul messaggio partecipa scegli i cambi è lanciato dal leader e candidato premier eh di Maio queste alcune curiosità per quanto riguarda i eh tweet dei eh candidati. Ma ancora andiamo a vedere sempre sulla prima pagina del piccolo di Trieste un'altra eh notizia che troviamo a eh centro camp a centro pagina una notizia eh di eh cronaca un incidente nella boscaglia carsica a Sgonico schiacciato da un tronco salvato grazie allo smartphone il soccorso alpino è intervenuto per recuperare un uomo feritosi mentre lavorava nel bosco per fare legna è stato lo stesso boscaiolo a chiamare il numero unico uno uno eh due la pianta che aveva battuto lo ha investito bloccandolo al suolo e procurandogli una frattura alla eh caviglia questa la fotonotizia che troviamo sulla pagina sulla prima pagina di Trieste del piccolo andiamo adesso sull'edizione isontina di questo quotidiano e vediamo in eh primo piano a centro pagina un ehm un piccolo un piccolo aeroplano Rotor Ukraine un centro addestramento piloti a Gorizia l'azienda pronta a investire nel lisontino non solo la Slovenia ora anche l'Ucraina guarda con interesse all'aeroporto di Gorizia il Duca d'Aosta l'azienda Rotor Ucraina è eh decisa a investire nel lisontino dove intende aprire un centro di addestramento per i piloti e gli ingegneri meccanici nell'aviosuperficie riaperta da poco eh tempo e qui vediamo anche un'immagine di un piccolo eh velivolo andiamo nelle pagine interne di eh Gorizia e Monfalcone a Gorizia vediamo in primo piano i fondi arrivati per la sistemazione della stella mattutina regalo da uno virgola tre milioni in atteso finanziamento del Ministero dei beni culturali per restaurare il cinema in arrivo anche seicentomila euro per la sala eh Petrarca questo nell'ambito dei eh fondi messi a disposizione nei giorni scorsi stanziati nei giorni scorsi dal Ministero per i beni eh culturali fondi che sono stati destinati anche ad Aquileia e eh Cividale oggi eh sul sul quotidiano locale troviamo degli approfondimenti anche a questo eh proposito andiamo a Monfalcone adesso sconto IMU per case in affitto non affollate questa è eh l'idea del comune di Monfalcone giù l'aliquota base ulteriore ribasso ai proprietari che locano abitazioni a un numero limitato di persone in base alla eh metratura incentivi fiscali a favore dei proprietari che affittano a residenti i propri immobili al di sotto della soglia limite degli occupanti prevista dal regolamento edilizio nei giorni scorsi lo ricorderete a Monfalcone c'erano stati dei controlli proprio in alcuni eh appartamenti che avevano eh portato alla luce delle situazioni di sovraffollamento proprio in alcuni di questi appartamenti eh affittati. Andiamo nel andiamo sulle pagine del gazzettino il gazzettino del Friuli andiamo subito sulla prima pagina del eh gazzettino del Friuli il titolo farmaci introvabili scatta l'allarme Federfarma regionale dice mancano anche vaccini antitetano antiostruttivi delle vie respiratorie e medicinali anti epilessia è colpa delle speculazioni sui prezzi a livello europeo che a urgenza si rivolga alle strutture sanitarie eh pubbliche sono ci sono dei farmaci di eh primaria importanza che eh si fa fatica a trovare in Friuli Venezia Giulia la denuncia arriva da eh Federfarma eh regionale. C'è invece una bella notizia a centro pagina è ehm è stato finalmente effettuato il trapianto di eh Midollo eh per la piccola Elisa la bambina di tre anni di Pordenone lo ricordate lo ricordate di cui si è parlato anche a livello nazionale Fiorello aveva lanciato una mobilitazione per ehm spingere eh i donatori eh e chi non è donatore appunto a presentarsi come donatore di midollo osseo dal trapianto la speranza per Elisa è stata il papà annunciato ieri via Facebook che è stato effettuato il eh trapianto e poi continuiamo l'analisi della prima pagina del gazzettino imparare più lingue può allungare la vita i sorprendenti risultati di una ricerca friulana presentata in provincia a Udine e poi vediamo anche qui a Grusti rinviato a giudizio eh per corruzione Michelangelo Grusti il presidente di un'industria eh Pordenone. Andiamo di spalla adesso si parla di un bando della fondazione Friuli che ha eh premiato i creativi del volontariato Casaupa e eh all'incirca in circo all'incirca e poi vediamo troppe anziane in Friuli caricate di lavori in eh casa. Sono circa ventiquattromila le donne di età superiore ai sessantacinque anni che in casa sono cariche di lavori familiari in prevalenza l'assistenza di congiunti in condizioni di eh fragilità eppure loro stesse il più delle volte devono sostenere una condizione di vita costellata di malattie croniche. lo segnala una ricerca dell'Ires presentata ieri in regione eh presentata ieri dalla CGL regionale scusate CGL che chiede alla regione norme di sostegno come avviene in Emilia Romagna. Andiamo nel taglio alto i sindaci candidati andiamo a riprendere la pagina la prima pagina del Friuli. C'erano le parole eh della eh presidente della regione Serracchiani nel taglio alto che eh dice i sindaci eh no i sindaci eh candidati dicono Serracchiani disturba la democrazia scusate queste sono le parole dei sindaci candidati e poi eh per quanto riguarda il voto di aprile quindi le regionali regionali al via proposte di candidature fino a martedì per quanto riguarda i candidati alle regionali del Movimento eh 5 Stelle e poi la firma del patto per la sicurezza ieri a Roma al Viminale integrate polizie statali e locali da ieri dunque è operativo il patto per la eh sicurezza. Ecco ancora il titolo nel taglio alto. Andiamo a piedi pagina adesso e andiamo a concentrare la nostra attenzione sugli spettacoli e sullo sport per quanto riguarda gli spettacoli vediamo un'iniziativa eh del che coinvolge eh tanti eh udinesi ecco qua il titolo cittadini udinesi portano in scena le proprie storie docenti universitari studentesse pensionati sotto la regia di Rita Maffei su progetto del css da spettatori sono diventati attori eh protagonisti e torneranno in scena questa sera per il terzo eh episodio andiamo a vedere anche per quanto riguarda lo sport quest'altro articolo che ci parla di udinese eh Maxi Lopez e Duvan Zapata nuova sfida da eh ex si guarda dunque alla prossima partita di campionato tra eh udinese e eh Sampdoria. Tra poco andremo proprio assieme eh sulle notizie sportive prima però facciamo un passo indietro perché non avevamo visto prima la prima pagina del eh messaggero veneto di eh Pordenone e allora andiamo a recuperarla subito e vediamo che in apertura in primo piano abbiamo anche qui la notizia del eh trapianto per la piccola Elisa effettuato il trapianto Elisa rinasce la speranza il padre dice ora dobbiamo aspettare cento giorni per capire come reagirà il FISA il fisico festeggiato però un primo successo di squadra la vicenda ha commosso l'Italia i VIP si erano mobilitati per rincrementare il numero dei eh donatori ora non fermarsi i malati eh sono eh tanti e con questa notizia noi chiudiamo questa nostra prima parte di Buongiorno Friuli adesso ci fermiamo come sempre per un attimo di pubblicità e poi assieme andremo sui quotidiani sportivi e sulle notizie sportive di oggi ci saranno anche i collegamenti con i vigili urbani per gli aggiornamenti sul traffico con l'Osmer Arpa per le importanti previsioni del tempo insomma tante cose di cui parlare ancora in eh questa mattinata assieme a noi a tra poco l'Osmero